Il simulatore VMTS, Wildfire Management Training System, grazie ad un potente ambiente di simulazione personalizzabile, rappresenta uno dei più evoluti ausili per la didattica, dove i futuri direttori delle operazioni spegnimento, DOS, possono essere addestrati in un ambiente virtuale ma in grado di rappresentare fedelmente tutte le dinamiche principali degli incendi boschivi. in modalità sicura. Il sistema di simulazione è stato sviluppato con l'ausilio di personale altamente qualificato in campo didattico AIB, seguendo le raccomandazioni del Dipartimento della Protezione Civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il docente, mediante la sua postazione, è in grado di gestire la simulazione tramite la scelta degli scenari operativi, immaginari per usi didattici o basati su località reali a richiesta del cliente. Inoltre può gestire i vari mezzi aerei di terra coinvolti nell'attività. L'interfaccia grafica del VMTS semplifica per il docente l'utilizzo delle varie funzionalità a disposizione, poiché è ricca di icone e descrizioni. Gli strumenti spaziano dalla possibilità di controllare il fuoco e la sua evoluzione al posizionamento dei mezzi di terra o aeromobili AIB, prelevandoli da una ricca banca dati già presente nel software, ma espandibile su richiesta del cliente al momento dell'acquisto. Anche le condizioni meteorologiche possono essere controllate dal docente, influenzando la propagazione dell'incendio, così come la velocità dello scorrere del tempo, che rimane sempre registrabile e riavvolgibile per fini didattici. Inoltre, sono presenti funzionalità avanzate che permettono di modificare parametri sul comportamento autonomo del fuoco e dei mezzi. I velivoli immessi possono essere gestiti direttamente mediante joystick o controllati tramite percorsi seguibili in automatico, così da diminuirne l'impegno del docente per dedicarsi alla simulazione e concentrare sulla didattica della comunicazione con i DOS. Tutti gli esercizi possono inoltre essere salvati e ricaricati, velocizzando il processo di simulazione. L'allievo gode di una visione panoramica mediante monitor TV, generalmente tre schermi da 50 pollici o superiori, che gli permettono di avere un punto di vista il più completo e realistico possibile. Anche il visore di realtà virtuale VR è disponibile per l'allievo, così da avere un'immersione ancora superiore. Potendosi quindi muovere nell'ambiente simulato, il discente ha la possibilità di utilizzare strumentazioni virtuali come la radio TBT o di terra, la bussola, il binocolo, tutte personalizzabili dal cliente. In conclusione, VMTS è in continua evoluzione, grazie alle nostre qualificate collaborazioni e aggiornati studi nel settore, migliorandosi in ogni versione ed espandendo le funzionalità, pur rimanendo semplice nell'impiego e flessibile a qualunque richiesta del cliente. Grazie a tutti!